L'ultima volta che era venuto in Puglia il leader del PDL Massimo D'Alema lo aveva fatto per sostenere la candidatura di Francesco Boccia alle primarie contro Nichi Vendola. Ora ritorna per chiedere ai pugliesi proprio un voto per il governatore uscente. Il PD sostiene in tutto e per tutto alla regione Puglia Nichi Vendola. Tura elettorale di Massimo D'Alema nella provincia di Brindisi, dopo Torre Santa Susana e Celino San Marco incontra i giornalisti nel capoluogo Messapica all'hotel internazionale. La crisi economica e il lavoro, il tema più importante del programma del Partito Democratico. Il leader del centro-sinistra attacca il governo Berlusconi sul tema del mezzogiorno, sulle mancate politiche per lo sviluppo del Sud Italia. Lancia frecciatine contro la Banca del Sud proposta da Berlusconi per finanziare le imprese del mezzogiorno. Si tratta solo di una bola mediatica, dice, i veri aiuti alle imprese ci sarebbero con la reintroduzione del credito d'imposta. E' un modo di coprire il vuoto di una politica verso il mezzogiorno. Non vorrei che la banca diventasse un carrozzone condizionato politicamente nel quale ottengono credito soltanto gli amici degli amici. D'Alema a Brindisi nel luogo in cui si è concretizzato il laboratorio politico che ha visto vincere insieme PD e Udc. Laboratorio che non ha però trovato attuazione per le elezioni regionali, così come lui avrebbe voluto. Ma parla di una vittoria a metà per essere riuscito comunque ad allontanare l'Udc dal centro-destra. L'idea di un'alleanza melidionalista oltre il centro-sinistra è ancora per lui attuabile, anzi si lavora per concretizzarla. Noi avremmo voluto portare questo tipo di esperienza anche al governo della regione. E' vero che non ci siamo riusciti, però è anche vero che la nostra politica unitaria ha creato le condizioni perché si determinasse una separazione tra il centro-destra e l'Udc. Un risultato a metà, ma è una metà molto importante, che potrebbe rivelarsi decisiva. Io sono convinto che in Puglia, come in tutto il Mezzogiorno, occorre creare un'alleanza meridionalista più ampia del centro-sinistra. E forse il risultato a metà di cui parla D'Alema, a Brini si raggiunge quasi un risultato pieno, visto che alcuni esponenti e candidati alla regione dell'Udc voteranno per Nichi Vendola. Un accordo sotto banco tra PD e Udc, li chiediamo noi? Innanzitutto se queste cose sono state dichiarate non vedo come possano essere chiamate sotto banco. Al di là della sgradevolezza dell'espressione sotto banco, ma è palesemente contraddittoria. Queste cose sono chiaramente sopra il banco. Noi siamo favorevoli del tutto alla luce del sole, ad una collaborazione che vada oltre il centro-sinistra. Naturalmente non è stato possibile creare un'alleanza di questo tipo per la regione. Vedremo in quali forme questa collaborazione potrà realizzarsi.